Musica Siamo arrivati al motoraduno di Corian No, non sono io, ma questo fa il testo da questa parte Questo è il momento benessere Siamo arrivati al video 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 Ciao! Ciao! Siamo arrivati al video Siamo arrivati al video Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille, ragazzi. Bravi ragazzi, vero? Grazie a tutti. Grazie.